Musica Bentrovati all'informazione di TRMH24, ancora buona domenica in apertura alla visita a Cerignola del ministro della famiglia Roccella che è intervenuta in particolar modo sulle misure che il governo vorrà continuare a mettere in campo per sostenere proprio le famiglie in difficoltà, quelle che si trovano in condizioni di povertà. Ascoltate. Una famiglia radicale non è una contraddizione ideologica per un ministro cattolico rigoroso e conservatore, nemmeno una provocazione. È il titolo di un libro che dalla famiglia ne fa un racconto di esperienze politiche e sociali, quel libro per il quale la ministra Roccella è stata pubblicamente contestata e che si coniuga con i percorsi parlamentari di una legge. È una legge di civiltà, è una legge che vuole perseguire un reato che in Italia è già reato ma non è mai stato perseguito e vuole evitare che ci sia lo sfruttamento delle donne povere, la selezione dei bambini perché si scelgono e la compravendita sostanzialmente della maternità e della paternità. Roccella sceglie Cerignola e la provincia di Foggia per la sua tappa pugliese di presentazione del libro ospite della fondazione Tatarella, una storia personale di un periodo politico andato che vive di un presente che chiama scelte di interventi a protezione della famiglia. L'assegno unico che era un buon provvedimento fatto nella scorsa legislatura che abbiamo mantenuto e implementato e anche nella riforma che abbiamo fatto del reddito di cittadinanza, cioè nel provvedimento che lo ha sostituito abbiamo mirato proprio ad aiutare le famiglie con figli, mentre prima con il vecchio provvedimento erano privilegiati i single, i giovani single, invece abbiamo voluto proprio aiutare le famiglie con figli e con persone anziane perché sono quelle più a rischio povertà. Ma certamente faremo ancora molte altre cose per la famiglia perché è qualcosa che sta a cuore a tutto il governo e che non riguarda soltanto il mio ministero che è un ministero della famiglia. E intanto sempre ieri a Bari circa 10.000 persone hanno partecipato per le vie del centro al Pride 2023, fra loro anche il sindaco di Bari, Antonio De Caro. A Bari la sfilata multicolore del Pride 2023. È partita nel primo pomeriggio da Piazza Umberto di fronte all'università ed ha raggiunto Piazza della Libertà dove tra i palazzi della prefettura del comune migliaia di persone hanno cantato in coro Bella Ciao. La manifestazione si è conclusa in serata con una festa in piazza. All'appuntamento che ha da sempre l'obiettivo di rivendicare i diritti LGBTQ+, secondo gli organizzatori del coordinamento del Bari Pride, hanno partecipato almeno 10.000 persone. Tra gli altri anche il sindaco di Bari, Antonio De Caro. Quest'anno celebriamo i 20 anni del Pride pugliese, ha detto De Caro. Dal 2003 ad oggi il Pride attraversa le strade di questa città e di questo noi siamo orgogliosi. In questi 20 anni per fortuna sono cambiate tante cose, a Bari come nel resto del paese, ma la strada dei diritti è ancora lunga. Essere qui oggi, ha aggiunto, per me significa testimoniare la mia volontà come uomo, come cittadino e come sindaco di voler percorrere questa strada insieme a tutte le associazioni, i movimenti, le persone che chiedono soltanto di vedere riconosciuti quei diritti legittimi che hanno tutti i cittadini, indipendentemente dalla persona che si ama o dal genere in cui ci si riconosce. De Caro ha ribadito anche di essere favorevole al matrimonio egualitario. E intanto dalla Basilicata per la prima volta il PIL pro capite della regione sopra la media europea. Lo sottolinea il governatore Lucano Vito Bardi, commentando in particolare i recenti dati Istat-Eurostat. I recenti dati Istat ed Eurostat sul PIL pro capite export e inflazione segnano un cambiamento epocale per i lucani, lo ha affermato in una nota il presidente della regione Basilicata Vito Bardi. Lungi da inutili trionfalismi, per la prima volta negli ultimi vent'anni, il PIL pro capite della Basilicata è stato superiore alla media europea, facendo registrare un più 2,5% dal 2019 al 2021 contro la media europea dell'1,7%, ottenendo il miglior risultato d'Italia e facendo recuperare alla Basilicata, anche qui per la prima volta nella storia, due posizioni dopo vent'anni di crollo in classifica. Siamo fiduciosi, sottolinea Bardi, di poter mantenere questo trend anche nei prossimi anni, nonostante la crisi di Stellantis e gli effetti della pandemia due tegole di questi anni. Buoni anche i dati sull'export lucano, con un più 16,4% nel primo trimestre 2023 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, a dimostrazione della vitalità delle imprese e della capacità dei lavoratori lucani e nonostante i problemi dell'automotive, poi il dato sull'inflazione, che è il più basso tra le regioni d'Italia. Bardi fa anche riferimento alla strategia sul gas gratis ai lucani. Abbiamo difeso le famiglie meno abbienti perché l'inflazione colpisce per definizione. I più poveri sono numeri positivi per la nostra regione, alcuni mai visti prima, che spero possano essere salutati da tutti come una bella notizia, di cui esserne fieri. Sono in calo anche in Itta e disoccupati e il turismo è in fortissima crescita. Numeri positivi che sono merito di tutti i lucani, non serve a metterci il cappello né fare polemiche strumentali. Questo non vuol dire che tutto va bene, ha concluso Bardi. I problemi non mancano tantissimi, ci sono da sempre, richiedono nuove risposte. La notizia inedita è che la Basilicata torna a correre per la prima volta nella sua storia recente sopra la media europea. è un dato epocale che va analizzato, studiato e rivendicato. Un sistema circolatorio artificiale per robot e indumenti e l'innovazione made in Puglia. Una rivoluzione che passa attraverso due millimetri. Tanto misura il diametro di un sistema di circolazione di cui potranno essere dotati robot, macchine, tessuti e dispositivi indossabili. L'invenzione realizzata dal team di ricercatori del Politecnico Federale Svizzero con sede a Lausanna e dal Politecnico di Bari, di recente trattata dalla rivista internazionale Science, porta la firma di Vito Cacucciolo, ingegnere meccanico del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Poliba e dell'MIT di Boston. Grazie a delle micropompe, tecnicamente chiamate fiber pumps, intrecciate con i normali tessuti, sarà possibile realizzare abiti con funzione di esoscheletri, feedback tattili per la realtà virtuale o ancora realizzare indumenti termoregolatori. Tutti gli esseri viventi hanno un sistema circolatorio al loro interno. Gli ingegneri hanno usato per anni la circolazione del liquido e continuano a usarla per sollevare migliaia di chili, per raffreddare o riscaldare un macchinario, un'automobile o un ambiente domestico. L'obiettivo della nostra ricerca è stato quello di trovare il modo di trasportare tutte queste funzionalità, che sono estremamente utili e potenti, all'interno di dispositivi mobili. È sostanzialmente un tubicino di 2 mm di diametro che senza nessun componente aggiuntivo, soltanto con l'applicazione di un segnale elettrico, riesce a mettere in movimento un fluido. Pensate ad esoscheletri, di nuovo, che possano essere non più ingombranti di un normale vestito, di una normale maglietta, e che possano aiutare nella riabilitazione qualcuno che ha avuto un problema muscolare temporaneo. Proprio come le micropompe con i tessuti, anche gli esiti della ricerca si legano strettamente alla storia personale di Vito Cacucciolo, che dopo aver condotto ricerche in diverse parti del mondo ha scelto di tornare in Puglia. È stata una parabola abbastanza lunga, come per tutti i risultati ambiziosi. Partita alla fine del mio dottorato, che ho svolto al Sant'Anna di Pisa, nell'Istituto di Biorobotica. Lì, all'interno del gruppo in cui ero, è cominciata una collaborazione con un professore giapponese che si chiama Shingo Maeda. Sono poi stato in Svizzera per 5 anni all'IPFL, che è il Politecnico Federale Svizzero, con sede a Lausanna. Sono tornato portando tutto il bagaglio che avevo accumulato fino a quel momento per promuovere anche un pochettino lo sviluppo, per poter contribuire a portare avanti lo sviluppo tecnologico e educativo del mio territorio. Matera, capitale della ruralità, si chiude oggi, una iniziativa che è durata per tre intense giornate nella città dei Sassi. Da Matera parte un messaggio forte. Matera è rinata, è diventata importante con la cultura, quando è diventata capitale della cultura e quella scelta è stata forte perché è stata condivisa dalla comunità. Quindi noi da Matera vogliamo lanciare un messaggio forte, al nostro Paese. Siccome l'Unione Europea, nel documento su una visione di lungo termine delle aree rurali, ci indica di costruire dei patti di comunità, proprio partiamo da Matera e partiamo dal cibo. E il cibo lo vogliamo declinare in quattro parole. La C come cultura, come comunità, come consapevolezza, stare insieme. La I come identità, quindi il territorio rappresentato dal cibo, dalla bellezza del paesaggio. Poi lo vogliamo declinare anche con l'altra parola che è biodiversità. Ma l'altro messaggio forte che vogliamo lanciare da Matera è quello dell'AO dove siamo deficitari, organizzazione. Cioè dobbiamo lavorare in rete, dobbiamo condividere, dobbiamo insieme fare sistema per sfruttare tre asset importanti importanti che il nostro paese ha, che sono il nostro cibo, la bontà del nostro cibo, la bellezza dei nostri paesaggi, l'unicità dei nostri beni culturali. Se su questi asset si investe, si lavora in rete e si fa sistema, il nostro paese sicuramente farà grossi passi avanti, partendo da Matera. Il cibo è un valore, come tale non deve essere sprecato. La legge 166 del 2016, la legge antispreco, dà un grande protagonismo alle imprese di tutta la filiera produttiva, dal settore agricolo passando per chi trasforma le eccedenze e ovviamente Matera è una città dove il turismo ha un ruolo molto rilevante. E dall'altro lato il terzo settore, tutte quelle realtà che ogni giorno rispondono a un bisogno sociale importante. Il cibo non può essere sprecato, ma soprattutto deve essere recuperato tutto quel cibo legato appunto alla frutta, la verdura, la carne, il pescato, i prodotti trasformati che sono importantissimi per la dieta delle persone in difficoltà. E lui mi disse, Caspera, tu sarai? Parliamo ancora di questo tema, ma lo facciamo attraverso il Cine Cibo, il festival a San Severino Lucano dedicato al cinema gastronomico. Occhi puntati sulle eccellenze gastronomiche del territorio e un connubio perfetto tra tipicità e benessere della cucina locale e cinema. È l'anima di Cine Cibo, il festival del cinema gastronomico, sabato sera protagonista a San Severino Lucano, per una serata speciale con tanti ospiti intervistati da Donato Ciocioli, fra questi alcuni volti noti del cinema e della tv italiana, Paolo Conticini, Andrea Roncato e Valeria Marini. Sempre lo spettacolo, mi piaceva cantare, ballare, mi piaceva la felicità. Il festival, inedito, a tema gastronomico, si propone di valorizzare la corretta alimentazione e il cinema di qualità. In questo senso, l'area sud-occidentale della Basilicata ha valorizzato i prodotti della tradizione riconosciuti dal Ministero, dal pane di patata proprio di San Severino alla melanzana rossa, fino alle orecchiette. L'idea e l'intenzione di soffermarsi sulle caratteristiche che riguardano il mondo del cinema, ma nello stesso tempo anche per proporre le produzioni agroalimentari di questa area di Basilicata, dell'area sud-occidentale, dove esistono delle eccellenze gastronomiche che fanno riferimento ai prodotti tipici del territorio, prodotti biologici a chilometro zero. Ne abbiamo tanti che vanno dalla melanzana per arrivare alla patata, senza dimenticare chiaramente salumi, formaggi, ma anche vini che sono buoni in questi territori. Nello stesso tempo c'è la necessità di mettere in evidenza in questi momenti l'importanza di una corretta alimentazione che è giusta al fine di prevenire patologie cardiovascolari, diabete e anche patologie neoplastiche. E ci fermiamo qui. Grazie, come sempre, per l'attenzione e ancora buona domenica.